Molto traffico pedonale per le vie napoletane nella prima giornata festiva non domenicale. Quasi tutta la mattina, prima che cominciasse a piovere, la città ha assunto in alcune zone anche un aspetto festoso per la circolazione di numerosi gruppi di bambini e ragazzi in bicicletta. Sono stati i padroni delle strade, ma dobbiamo sottolinearlo, spesso sono stati incuranti dei pericoli che possono derivare da una eccessiva disinvoltura nella circolazione. Mezzi pubblici e vetture autorizzate, dato il ridottissimo traffico, viaggiano, seppure nei limiti consentiti, a velocità sostenuta. In maniera positiva ha risposto il servizio dei mezzi pubblici. I 700 autobus, tram e filobus dell'azienda municipale hanno trasportato nella mattinata circa 350.000 persone ed un incremento del 30% di viaggiatori rispetto a domenica scorsa si è avuto per i mezzi delle tramvie provinciali. Lungo alcune linee si sono avute disfunzioni che gli esperti del traffico stanno cercando ora di superare, in particolare fra il Vomero e la parte bassa di Napoli. Per lavori alle fogne, via Tasso non è transitabile ed i mezzi sono costretti ad un lungo giro. Per le infrazioni al divieto di circolazione delle auto private sono state elevate una quarantina di contravvenzioni.